Ciao, Gio Rossi, oggi volevo parlarvi del mio album You Mad e rispondere anche a una domanda di alcune persone che mi hanno chiesto chi è il cantante che c'è dentro nell'album. Si tratta di Andy Hackbar, un cantante pazzesco che io ho conosciuto lavorando sulle navi e poi insomma siamo diventati amici e ci siamo tenuti in contatto. Quando ho composto i miei brani ho pensato alla sua voce e l'ho contattato, lui molto volentieri mi ha registrato alcune canzoni. Con un aneddoto particolare c'è uno di questi brani che è Wherever You Go, lui me l'ha spedito indietro con una versione diversa da come io volevo, da come io mi aspettavo, solo che è bellissima. Quindi cosa ho fatto? Ho tenuto la sua voce, ho riregistrato da capo il brano con la versione più adatta a quella interpretazione lì e adesso abbiamo questa versione bellissima, country, un po' così, che mi piace tantissimo. vi lascio l'assaggino così lo sentite e ciao. Grazie a tutti.